Grazie Presidente, cercherò di rimanere nei tre minuti. Io mi scuso per non essere intervenuta oggi, non mi sento perfettamente bene e quindi ho preferito aspettare l'ultimo ordine del giorno per intervenire. A me dispiace che non si sia comprese tutta una serie di cose, noi non siamo contrari alla coprogettazione assolutamente, noi riconosciamo sia degli enti del terzo settore che delle associazioni e che anche del volontariato di tutto questa parte che ci aiuta, ci supporta nel dare un sostegno alla città. Però se si fosse eletto bene questo piano, questo piano che viene solamente denigrato dalle opposizioni, sinceramente si sarebbe visto che la coprogettazione è prevista sempre nel piano, nella programmazione, è prevista nel monitoraggio e anche nella valutazione del piano stesso e dei servizi erogati. Noi non siamo contrari a questo, però analogamente come fatto ieri per delle cose che già sono previste nel piano, io non posso approvare gli ordini del giorno, altresì non sono intervenuta su altri argomenti perché già trattati negli ordini del giorno di ieri. Quindi è inutile che io mi dimetto a discutere sul personale, sull'assistente sociale, su tutta una serie di argomenti che già abbiamo affrontato ieri e già abbiamo espresso il nostro punto di vista. Onestamente se le opposizioni lo ritengono, lo vogliono e pensano che possa essere di aiuto anche per implementare in un futuro, in un modo migliore questo piano, io mi rendo disponibile, come sono sempre stata, anche ad affrontare il tema della coprogettazione in una delle prossime commissioni, portando anche delle esigenze e delle opposizioni che magari non hanno riscontrato in questo piano e vedendo se è possibile collaborare insieme. Ma è spirito di collaborazione che io non ho chiuso mai la porta davanti a nessuno e questo non me lo potete nascondere nelle commissioni e anche in tutti gli altri incontri che abbiamo fatto a qualsiasi titolo. Quindi io mi scuso nuovamente per non essere intervenuta prima e consegno il nostro voto di assenzione anche su questo ordine del giorno. Grazie Presidente.